Considerando le temperature quasi estive, c'è voglia di mare nei catanesi che aspettano di poter usufruire dei solarium e delle spiagge libere, debitamente attrezzate. Per questo motivo l'amministrazione Stancanelli sa portando avanti l'iter per l'allestimento e la gestione dei due solarium, quello di Piazza Europa e quello di Ognina, nella scivola per i disabili a San Giovanni Licuti e per la gestione delle tre spiagge libere della Playa. La prima gara è stata già giudicata e riguarda l'allestimento del solarium di Piazza Europa e della scivola di San Giovanni Licuti, gara che registra un importo che supera i 112.000 euro, ma quando sarà davvero fruibile il tutto lo abbiamo chiesto al sindaco. Speriamo di arrivarci come abbiamo fatto ogni anno nella prima decada di giugno perché questo è un modo per dare a Catania la possibilità di godere in maniera seria, concreta, ma anche gratuita la risorsa maggiore che a Catania è il mare. E rimanendo sul tema dell'estate e della fruizione delle spiagge, il sindaco ha anche aggiunto la decisione del governo Crocetta di aumentare in maniera spropositata i canoni demaniali per gli stabilimenti balneari e un'ulteriore mazzata per le aziende turistiche della Playa, con grave danno per l'economia e l'occupazione della Sicilia e di Catania. La revisione prevede infatti un aumento del 600% dei canoni stabilito dal governo regionale. Crocetta, ha detto il sindaco, vuole affamare anche questa importante realtà del nostro tessuto produttivo, con tragiche rigadute occupazionali anche per i numerosi stagionali che lavorano nei lidi balneari. Si rivede, ha concluso Stancanelli, questo assurdo provvedimento che danneggia il turismo e colpisce ogni buona intenzione di sviluppare investimenti turistici nella nostra isola e in particolare a Catania, dove operano da parecchi anni decine di stabilimenti di importante livello, alcuni dei quali costretti a chiudere battenti a causa di questa infausta decisione.